Buonasera e ben ritrovati ad in piazza, abbiamo superato le vacanze, siamo tornati ad allestire il nostro grande bar con molte storie di normale attualità anche per questa sera, andiamo subito a conoscere gli ospiti che ci eviteranno compagnia cercando di raccontare la loro attualità, cercando anche di interagire l'uno con l'altro entrando nella storia di chi gli sta a fianco in questo bar che non è virtuale, è assolutamente vero. Saluto e ringrazio Antonio Marco Dallapozza, assessore alla progettazione e sostenibilità urbana del comune di Vicenza, era molto meglio quando una volta vi chiamavate assessore all'urbanistica che era molto più semplice, Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, Riad Cricca che è responsabile amministrativo del centro culturale islamico di Vicenza, nell'altro bar un po' di montagna e un po' di bel tempo, Roberto Rigoni Sterna, sindaco di Asiago, Marco Rabito, metereologo che non so se sia un lavoro, probabilmente assomiglia molto al giornalista, Andrea Cecchellero, sindaco di Posina e ancora di qua Maria Gabriella Strinati che è qua nel ruolo di insegnante del liceo Corradini ma anche di assessore all'istituzione del comune di Tiene, Enrico Giacomin, atleta del Nuoto Vicenza. Coloratissimi ma non poteva che essere così, rappresentanti dell'associazione Un Mondo di Colori con Samuele Riello e la sua band, e non ho detto banda peraltro, in vista di un appuntamento che è domenica, che è una marcia, un trasferimento come deve essere con lo sfondo della solidarietà. Ci sono le ragazze del metro bar di Cornedo, che sono Giulia e Ilda, che ci e vi prepareranno un po' di succo analcolico eventualmente da provare, la birra, visto che avete una permanenza lunga la potete anche smaltire prima di riprendere la via della patente e tornano a trovarci i Blonde Brothers che sono tradotti in italiano, Luca e Francesco Bau arrivano dall'altopiano di Asiago, vi ho portato il sindaco come ambasciatore a presentarvi, reduci da vari appuntamenti e finalisti due concorsi, Wave Music Award a Roma e Musica Controcorrente. Siete sempre in giro, ogni tanto trovate tempo anche per fare un album che nel 2014 aveva il titolo Brucia e avete preparato anche un libro che è Bruci amo, lo presentiamo dopo però, presentato tutti, ci siamo, ripartiamo con questo gennaio, ma finalmente avete finito questa storia della TAV, voglio dire, 20 giorni che i Vicentini guardano il giornale, aprono la TV, non sentono parlare altro che della TAV, superata con il pieno dei voti, bella sfida, assessore, perché sostanzialmente li andate a rivoluzionare una città e un territorio. Ne avessimo parlato sei mesi fa, credo che nemmeno lei ci avrebbe credito. No, è un po' la stessa vicenda che abbiamo avuto con la bretella dell'albero, la variante alla Pasubio, i tempi sono veramente cambiati a livello nazionale, le opere pubbliche sembrano avere un'altra marcia, i tempi sono molto ristretti e l'accelerazione che abbiamo avuto sulla TAV è stata un'accelerazione fortissima. Devo dire che è un progetto estremamente grande per non solo la città ma per l'intero territorio provinciale di Vicenza e vale la pena che se ne parli perché è destinato a cambiare non soltanto il volto di Vicenza ma anche a cambiare le abitudini di un'intera provincia e forse anche di bacini che sono più ampi di quelli della nostra provincia. Siamo rimasti un po' sorpresi che in tutto questo ambaradan di parole che tra il sindaco Ariati e qualche altro esponente della giunta hanno ovviamente da… io non ho mai sentito un intervento di Zaia sull'alta velocità a Vicenza in questo mese qua. Ovviamente sono delle questioni che vengono dipattute a livello locale perché incide molto sulla vita della città e dei comuni che circondano la città e quindi non essendoci grossissimi problemi, c'è solo a definire un po' come poterla calare su una realtà, dal punto di vista urbanistico è già compromessa, non vedo perché il Presidente doveva entrare nel merito della collocazione, è entrato più volte nel merito dell'utilità che l'alta velocità avrà nel Veneto e devo dire che come diceva Einstein nel momento di crisi e quando si crea lo sviluppo si creano le evoluzioni e quindi abbiamo la TAV, abbiamo la Pieda Montana che ormai è una infrastruttura in buona parte realizzata, abbiamo la Val d'Artico che a sud è ormai diventata una realtà e a nord ormai sembra si stia superando il blocco Trentino, insomma anche la provincia di Vicenza sta avendo delle infrastrutture che stanno aspettando da anni. Credo che mai negli ultimi anni abbiamo visto così tanti cantieri come quelli che vedremo, lei il filobus che è poi questo grande regalo che arriverà eventualmente ai vicintini di questa straordinaria operazione peraltro da fanta milioni, se lo sogna di notte voglio dire o no? Ce lo sogniamo come ce lo siamo sognati per tanti anni e pensare di poter liberare strade come Viale Verona, Corso San Felice, Viale San Lazzaro da una parte del traffico automobilistico e metterci un filobus in sede propria che porterà effetti anche sull'intera rete urbana ed extraurbana che circola per le strade, penso sia il sogno di qualunque assessore alla mobilità peraltro con un importo messo a bilancio di alcune decine di milioni che non avremmo mai potuto recuperare in nessun altro modo, quindi è un'opportunità straordinaria per la città di cambiamento non solo urbano ma anche proprio del modo di spostarsi. Ho visto che qualche giorno fa lei ci ha ricordato che fino all'anno scorso noi ci occupavamo parlo di noi della stampa ma anche della condizione dell'aria, della presenza delle polveri sottili un giorno sì, un giorno no, quest'anno non ne abbiamo mai scritto ma non è che sia migliorata no, vero? Ahimè, no, non migliora e questa fa parte però delle politiche che devono essere impostate soprattutto a livello forse nemmeno regionale, interregionale, il coordinamento delle regioni del nord Italia e a livello nazionale, il treno è un'opportunità anche da questo punto di vista, abbiamo parlato per tanti anni del trasferimento di quote, di merci, di persone dalla gomma al ferro, questa è un'opportunità per poterlo fare realmente e quindi la qualità dell'aria non migliorerà fin tanto che non facciamo interventi infrastrutturali, questo è uno di quelli, altrimenti ci tocca ritornare al vecchio progetto di qualcuno che voleva abbattere qualche montagna verso la Francia per fare entrare i flussi d'aria. Il turcino è il turcino. Sì, ma credo che tutti sappiano che le politiche per il miglioramento della qualità dell'aria si fanno in altro modo più serio. Al sore e Finossi, parlare di turismo in questo momento, poi parleremo con i sindaci che sono particolarmente interessati, la neve ce la si è giocata proprio, sta incidendo negativamente in maniera pesante? Ma non credo, dal punto di vista dei dati, delle presenze sull'altopiano ad esempio non sono male, anzi sono cresciute in queste ultime settimane e stanno crescendo. Ovvio che avremmo preferito le montagne biancate, ma piuttosto del clima dell'anno scorso, che fino a Natale aveva fatto temperature altissime e poi nevicava ad ogni fine settimana, quindi era impossibile raggiungere le montagne manutentali in maniera tale che fossero fruibili. Sì, è meglio questa temperatura che cala, si alza, si abbassa, però dà la possibilità insomma di godere della montagna, meno le belle giornate porta gli appassionati della montagna a frequentarla. Erigoni Sten, è vero, ho letto anche io, non c'è grande, non ci sono lacrime proprio da parte degli operatori turistici, né albergatori, né ristoratori, va abbastanza nonostante l'assenza di neve? Ma vede, noi non abbiamo ancora i dati definitivi degli arrivi delle presenze, però il sentore è positivo perché quello che caratterizza il nostro territorio è appunto anche la natura variegata dell'offerta turistica, per cui anche se manca la neve è possibile fare altro. La montagna nostra è una montagna appetibile, una montagna dolce, senza dirupi, molti camminano, fanno altre attività, lavorano gli hotel con i wellness, lavora l'enogastronomia, c'è un contesto molto ampio e diversificato. Voglio sottolineare però che quei 4-5 centimetri di neve che hanno fatto subito dopo Natale hanno salvato almeno le attività del comprensore, dei due comprensori aperti che avevamo, che sono quello del Caberlaba e quello del Verena. Le temperature poi rigide hanno permesso l'innevamento artificiale, faccio solo l'esempio, il Caberlaba che è una piccola stazione scistica, grazie al lavoro straordinario di chi gestisce questa stazione, abbiamo fatto lavorare oltre 60 mestri di sci durante le vacanze natalizie. Quindi è proprio la vocazione turistica di quella zona che è più destinata alle famiglie, ai bambini, la specializzazione per la disabilità, rende sicuramente appetibile il nostro territorio anche per chi vuole fare un tipo di sci che è ovviamente limitato rispetto a quello dove ci sono grandi vette, grandi piste, ma che comunque risponde ad una domanda turistica fatta di famiglie e soprattutto che è poi il nostro target ed eccellenza. Io penso che quest'anno abbiamo retto molto bene nonostante la crisi, nonostante l'assenza di neve perché abbiamo un territorio che sa offrire anche altro rispetto all'esclusività di un'offerta turistica basata sulla neve. E questo lo notiamo nel momento in cui andiamo a vedere cosa stanno facendo i nostri competitors trentini che stanno purtroppo per loro fallendo sulla scorta dell'indebitamento milionario che hanno prodotto negli anni per la realizzazione di impianti di risalita faraonici, impianti di nevamento molto comune. Posina, la dobbiamo considerare città turistica anche invernale, sindaco o no? Sicuramente sì perché è un territorio che oltre ad offrire possibilità di passeggiate anche in assenza di neve e dà la possibilità di godere delle nuove astronomie, dei prodotti tipici, della cultura, della grande guerra che senza la neve comunque rende accessibili i luoghi della grande guerra anche nell'inverno e comunque è un paesaggio accogliente per il turista anche d'inverno. Sì, voi dite che non vi serve la neve però se viene, solo una comunicazione tecnica per i miei, se mi date anche il tempo che sta passando è meglio così non faccio la trasmissione di una giornata intera fino allo svenimento. Peraltro devo anche, faccio un secondo lavoro assessore non avendo ambizioni per adesso politico-amministrative che è quello di prendere gli ordini per le signorine. Lei vuole birra o succo? Ma facciamo un succo. Ha fatto l'alpino lei o no? No, ma visto che l'hanno fatto loro mi sembrava giusto dare soddisfazione. Birra o succo assessore? Birra. Birra, birra. Succo, immaginavo, non ci scappavamo neanche. Di qua devo andare, birra? Birra piccola. Voi prendete gli ordini, cioè che poi se mi sbagliate è una consegna qui e dobbiamo sospendere e rifare, eh? Birra. Birra? Birra. Birra per assessore? Birra. Birra. Lì, innaffiateli perché sono troppi. I due cantanti? Birra. Birra. Voi già l'altra volta non siete tornati a casa perché eravate cotti come un... Quindi birra ma una in due per loro, eh? Una, una in due. Ah sì, a proposito di neve, Arrabbito che è meteorologo, dicono, intanto arriva il freddo, vedo che ti sei già premonito, qua hai detto che fa un caldo del demonio, però... Sì, arriva il freddo. Arriva il freddo? Non subito però. Come non subito? È fra un mese finito l'inverno? Settimana prossima gradualmente le temperature tenderanno via via a calare, quindi con esse anche la quota neve. Inizialmente domani, dopo domani, di neve ne arriverà però ancora a quote un po' altine. Dimmi la verità, finora ha fatto caldo? Meno, qui in città ha fatto caldo. Un caldo simile lo ritroviamo quando? Beh, diciamo un'assenza di neve simile la troviamo negli anni Ottanta, fino agli anni Ottanta. Anche se gli anni Ottanta sono stati molto nevosi a metà, 85, 86, 87, l'88, 89 e l'89, 90 sono ricordati come quelli dell'assenza di neve sulle nostre montagne. Mentre per il caldo basta tornare all'anno scorso. L'anno scorso è stato un inverno eccezionalmente caldo, ha avuto delle anomalie impressionanti a livello del nostro territorio. Quest'anno siamo sotto quelle anomalie, ma siamo comunque in presenza di un inverno molto caldo. Il mese di novembre è stato caldissimo anche quello, 3 gradi sopra la media e anche l'anno è iniziato con questo trend, purtroppo. Avendo ancora relativa facoltà di ricordo, poi ci abbiamo pippato via un'estate estremamente instabile. Ecco, che vuol dire che anche l'anno 21... No, non è detto, non c'è una correlazione. Grazie, rabbito. L'estate, diciamo che l'estate scorsa, se avete notato un'anomalia particolare... Te l'abbiamo notato, non ti preoccupare. Quella più evidente è stato il mese di luglio, che il mese di luglio di norma è il più stabile di tutta l'estate, invece il mese di luglio quest'anno è stato il più instabile, ha fatto nel Vicentino più di 22 giorni di pioggia, contro una media che è di 4-5 giorni di pioggia e sono caduti un'infinità di fulmini, perché abbiamo avuto un'instabilità eccezionale. Noi abbiamo contati tutti, ma... Ce li abbiamo comunque nella grafica. Lei si li ha contati tutti quanti? Più di 700 mila fulmini solo nel mese di luglio nel nord Italia. Tutti qua? Nel nord Italia. Ah, nel nord Italia, 700 mila fulmini. E siamo su 1.700.000 fulmini totali dell'intera estate. Nonostante questo, però, per dimostrare quanto il nostro territorio sia piccolo a livello globale, globalmente l'estate 2014 è stata la più calda dal 1981. Quando? Eh, quest'estate. Io sono stato fuori in quel periodo lì? Globalmente. Ah, globalmente? Ah, né da un'altra parte, no? Nel pianeta, il pianeta continua a dare la febbre. Che io ho girato poco, peraltro, in luglio e agosto, devo dire la verità, però in questa parte del pianeta... In questa parte del pianeta siamo stati l'anomalia. Questa volta siamo stati l'anomalia fredda del pianeta. Ecco, lei l'inverno che ha iniziato lo definirebbe un'anomalia fino adesso o no? Sì, è anomale anche questo inverno perché abbiamo temperature sopra le medie. A livello di precipitazioni siamo in media perché mediamente i mesi invernali sono mesi secchi per il nostro territorio. Teniamo presente l'anomalia eccezionale dello scorso anno che è stato un inverno eccezionalmente piovoso. Abbiamo avuto i mesi di gennaio e di febbraio, che sono gli ultimi due dell'inverno, che hanno fatto... Non fa freddo, non piove neanche mai, meglio così. Eh, in questo caso sì. È più normale rispetto a quello dell'anno scorso. Sicuramente quest'anno. Se dobbiamo andare a casa i due sindaci e portare la lieta novella, nevicherà o no? Allora, nevicherà settimana prossima alle quote che fanno comodo... Bello, Lusiago è a mille, Posina? 600. Sì, ecco, forse anche a Posina, la seconda metà della settimana, forse anche Posina vedrai i fiocchi bianchi. Va bene, qua in città nordica della Pozza... Beh, qua in città è ancora presto, vedo che della Pozza mi sta quasi minacciando. La Pozza è assolutamente tranquilla, mi pare che non abbia nessun problema. Tornando un attimo al turismo, il vento si è caratterizzato in maniera importante come ragione di riferimento per il turismo accessibile, cioè il turismo per disabili è stato il punto di riferimento anche alla conferenza europea che si è svolta in autunno a San Marino. Perché questa scelta? Ma per due motivi essenzialmente. Il primo perché l'obiettivo che si è posto alla regione per quanto riguarda il turismo aveva due percorsi. Quella della destagionalizzazione per la nostra turistica per andare a ingolfare le località più frequentate e a seconda quella di poter far conoscere nuove realtà del nostro territorio. Quindi non solo le solite zone. Abbiamo cercato di valutare quali erano i mercati che potevamo in qualche modo stimolare per raggiungere questi obiettivi. Ci siamo accorti che per esempio in Europa ci sono 120 milioni di persone che hanno dei bisogni particolari, che hanno delle esigenze particolari e che quando devono fare una vacanza hanno dei problemi trovare una località che li ospiti con tutti quelli che sono i sacri crisi dell'ospitalità. Quindi abbiamo detto perché non puntare su questo mercato. Raggiungiamo due obiettivi. Quello di crescere dal punto di vista turistico. Siamo la prima regione ma con vocazione a continuare a crescere. In più diamo una risposta anche dal punto di vista sociale. Queste persone hanno il diritto di fare le vacanze senza problemi così come la ha qualsiasi persona che non vive delle esigenze particolari. Quindi è partita questa politica che è stata immediatamente riconosciuta dalla comunità europea, l'allora commissario europeo allo sviluppo economico, come via telega anche il turismo, ci ha riconosciuto come regione pilota su questo tema e via via è partita questa interessante... Da anni la fiera ospita Gitando for all che peraltro è... Si è evoluta proprio attraverso questo progetto regionale perché ricordo la fiera di Vicenza ospitava questa fiera del turismo generico che era andata un po' in disuso. È stata recuperata con questa particolarità e via via che sono passati gli anni si è sempre più specializzata in questo tipo di offerta turistica. Quest'anno cambierà anche nome, non si chiamerà più Gitando All, ma MOVE, dove ci occuperemo del turismo accessibile in senso generale, anche parlando di designer, su come si costruisce un hotel in grado di ospitare chiunque, non andiamo a fare dei hotel specializzati, ma hotel accessibile a chiunque. Ragazzi, questi hanno la gola secca, o sono iniziati a servire o non riescono... Eh? Ti ho visto che avevi bisogno di... Una paura birra. Eh, lo so, lo so. Riyad Krika è responsabile amministrativo del centro culturale islamico di Vicenza. La comunità musulmana, che è particolarmente forte, mi diceva Riyad prima, rappresenta 13 nazionalità, almeno per la frequentazione che c'è in Via Vecchia Ferriera, al centro dell'attenzione anche nella nostra città, Riyad, perché i fatti di Parigi indubbiamente inevitabilmente non vi sono passati sopra. Venerdì scorso, venerdì è il giorno di maggiore affluenza al centro islamico, dove lei mi diceva c'è una presenza media di... 600? 600. 600 fedeli, sì. Riyad è di origine... Algerina. Algerina. Venerdì avete parlato, di fatti di... Abbiamo parlato e abbiamo come di consuetudine condannato questi atti criminali senza se, senza ma e senza cercare altre spiegazioni. Il nostro imam poi ha fatto delle prediche ed ha assicurato i fedeli a non essere intimoriti a condannare, ci condanniamo perché è la nostra politica, noi sempre da anni esistiamo sul territorio, siamo una realtà di Vicenza, sentiamo questa società come una società nostra perché siamo nelle fabbriche, siamo nelle scuole, nelle università, il male che tocca l'Italia, tocca anche noi, la pressione che stiamo sentendo... In questi giorni vi siete sentiti guardati in maniera diversa da noi? In maniera diversa sì, per dire la verità, perché alcuni atteggiamenti che prima erano normali dopo gli attentati di Parigi ci hanno messo all'angolo e non capiamo il perché. Se lei mi consentirà dopo di citare le nostre attività che facciamo nel centro... Assolutamente sì. Sono delle prove concrete che questo territorio lo sentiamo come nostro. Io ne posso chiedere, se io volessi partecipare, pur non essendo di fede islamica... No, non c'è nessun problema... Io trovo le porte aperte, voglio dire. Apertissime, perché è aperto tutti i giorni e poi non si chiede appartenenza politica o religiosa di chi viene a visitare il nostro centro, anzi se ci sono delle possibilità tecniche, la invito a fare la trasmissione anche da noi, così che i vicentini sappiano con chi hanno a che fare per maggiore tranquillità. Le chiedo una cosa, l'imam predica in arabo o in italiano? Allora, noi esistiamo dagli anni 90, sempre la predica viene fatta in arabo, però mai e poi mai è mancata la traduzione, che subito il pomeriggio del venerdì stesso viene pubblicata sul nostro sito e poi viene visualizzata da chiunque. È vero che nei giorni successivi i fatti di Parigi voi avete mandato una nota ufficiale alla questura di condanna. Abbiamo mandato a nome del Consiglio Islamico della provincia di Vicenza, sì, alle autorità, al sindaco, al prefetto e anche alla questura di condanna questi atti terroristici che noi consideriamo gesti folli. Siccome ieri ho proprio sentito un intervento di Zaia che diceva voglio sentire le condanne senza se e senza ma, che sono le parole che ha usato proprio Riad, è la cosa che mi è piaciuta di più. Devo anche dire che il venerdì qualche problemino di parcheggio intorno a Via Vecchia Ferriera c'è, lei che ha competenza nelle aree di sosta. Questo è un tema di cui abbiamo discusso tante volte e è difficilmente anche risolvibile perché c'è una carenza di standard, forse c'è l'unica cosa disponibile, è un'area comunale di circa 10.000 metri quadrati a fianco del bacino di laminazione sulla roggia di Oma, che potrebbe essere utilizzata, ma fin tanto che strada Carpaneda è ancora nelle condizioni in cui è, non rappresenta una soluzione praticabile. Comunque contiamo di ragionarci perché poi lì ci sono tante attività, c'è il centro orafo, ci sono diversi locali e anche notturni che la sera hanno un carico importante e viabilistico e quindi è un tema che rischia anche di creare conflitto con le attività che sono presenti lì in zona. E ha visitato il centro culturale? No, non l'ho ancora fatto. Il sindaco l'ha fatto? Il sindaco l'ha fatto? Vabbè, è un impegno quindi, tanto per venire un venerdì a vedere le problematiche legate al parcheggio. A mezz'oretta c'è un problema grosso di parcheggio. Mi fermo per qualche istante, un po' di pubblicità, poi parleremo di tutte le attività che si svolgono in Via Vecchia Ferriera, tra poco con la seconda parte. Ben tornati, ben tornati ad in piazza, abbiamo anche uno spazio musicale con due fratelli che già erano venuti qualche mese fa a farci visita. Lei, sindaco, conosceva i compaesani? E chi non li conosce. Chi ne li conosce? Chi ha già fatto in Sibiri, in piazza? Madonna, tante volte, sul palco centrale, qualche serata di piano bar, sono un'istituzione da noi, diciamo, questi due ragazzi. E penso che abbiano il talento anche per avere successo nel loro futuro, che glielo auguro perché sono di pari ragazzi. La volta scorsa ci hanno sicuramente fatto compagnia in maniera particolarmente importante, so che lo faranno anche questa volta. Il primo brano è sera. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E in te mi stringo per godere appieno di quest'ora. E se va in un abbraccio il tuo profumo è una canzone. E ora è il tempo andato, seguo ancora un'emozione. Sei qui, come mare, queste tue labbra sul mio viso. E tu, come un'abbrezza con le mani poi mi sfiori. Corri lento al vento, segui i mari, passo la mia via. Guardami negli occhi, nel mio mare l'onda sarai tu. Corri lento al vento, segui i mari, passo la mia via. Guardami negli occhi, nel mio mare l'onda sarai tu. E sera, e qui la luna ha messo luce ai nostri volti. E ora, tra pelle e cielo il mio corpo è un sussì. Sei qui, sei qui, la notte chiama stare uniti nei pensieri. Ma noi, già siamo stelle tra galassie di energia. Corri lento al vento, segui i mari, passo la mia via. Corri lento al vento, segui i mari, passo la mia via. Corri lento al vento, segui i mari, passo la mia via. Guardami negli occhi, nel mio mare l'onda sarai tu. Sarai tu Sarai tu Francesco e Luca Bauco, complimenti, come sempre Ha ragione il sindaco Mi tocca una curiosità, sindaco Cichellero Sti lupi ci sono o no? Sicuramente sono passati Sono stati fatti degli avvistamenti, non è la prima volta che succede Abbiamo avuto sia degli avvistamenti visivi sia del ritrovamento di tracce Probabilmente è un passaggio, non è ancora il lupo insediato stabilmente Ma sicuramente è stato avvistato Già avevate avuto l'orso? Abbiamo avuto l'orso Prima che se lo mangiassero loro Abbiamo avuto l'orso, abbiamo avuto adesso il lupo Probabilmente è un sintomo di un territorio integro Capace di ospitare anche l'evolversi dell'aspetto naturale E anche probabilmente un'opportunità in più Una volta che vengano tutelati gli agricoltori e le persone Per rendere accessibile e interessante il nostro territorio Posso dire che però dei lupi oggi avete visto solo le tracce Anche un suo assessore Prima di bere birra Ha visto e fotografato le tracce Sicuramente le tracce sono state fotografate Grazie per l'ora della merendina Vado da Maria Gabriella Strinati Che è qui non tanto come assessora Quanto come insegnante del liceo Corradini Che è il risultato il miglior liceo del Veneto In base ad una statistica della fondazione Agnelli Gli altri licei ovviamente sono incacchiati non poco Ma siete sul serio il liceo migliore? No, non lo so se siamo il liceo migliore Sicuramente siamo un liceo che prepara bene E i risultati hanno confermato questo Cioè bisogna studiare molto Bisogna studiare molto Io non l'ho fatto Abbiamo la fortuna di avere dei bravi allievi Dei ragazzi molto motivati, impegnati Che seguono quello che è un po' l'indicazione Quella che è l'indicazione dei loro docenti Che si impegnano con passione Ma ho visto che quelli che sono usciti dal liceo Corradini Hanno avuto una media negli esami poi universitari 29.25 Sì Che io nel mio corso universitario peraltro non ho completato Cioè 29 credo di averlo visto in due o tre esami Messi tutti assieme voglio dire Per cui gli scegliete famiglia per famiglia, quelli bravi? Sono loro che scelgono noi Io direi Sono loro che scelgono noi E questo è sicuramente un motivo di orgoglio E poi io credo che un ragazzino che entra al liceo a 14 anni È proprio nella fase più ricettiva E quindi è il momento della formazione migliore Per costruirsi un futuro Fortunatamente io credo grazie a un corpo docente serio e preparato E appunto all'impegno dei ragazzi Riusciamo a indirizzarli Probabilmente anche a quelle che sono le loro migliori potenzialità e capacità Per poi poter avere dei successi a livello universitario Avete poi tutta una serie di corsi pomeridiani che completano Sì, è un'offerta formativa molto varia sulla quale abbiamo lavorato da diversi anni A partire dai corsi di lingua Che poi sfociano nelle varie certificazioni a livello europeo Al laboratorio teatrale, di musica A tutta una serie poi anche di attività collaterali Legate anche al potenziamento e al sostegno per questi ragazzi All'aiuto per trovare un metodo di studio A una consulenza nel caso di problemi psicologici Quindi è un'offerta formativa che è completa Con la parte curricolare alla mattina E una parte anche importante al pomeriggio Lei da insegnante, visto che questa settimana sono aperte le iscrizioni Che dureranno un mese Consiglierebbe la scelta di un liceo O la scelta di una formazione più tecnica? Beh, fa una domanda Lei dice liceo Eh sì Sì, poi uno fa cinque anni e come sottoscritto finisce a fare il giornalista Perché non ha altri, se non è molto bravo Liceo ti dà un metodo rigoroso Io credo Senza nulla togliere agli istituti tecnici Non mi si è detto quando avevo 14 anni Un metodo rigoroso è un modo di affrontare poi anche i problemi Perché al liceo classico Corradini, come anche allo scientifico e linguistico Lavorano tanto Lavorano veramente tanto Molti miei ex studenti dicono poi Abbiamo vissuto di rendita all'università Cioè il metodo è fondamentale Probabilmente siamo riusciti a creare un mix attraverso appunto le loro capacità E dico la nostra professionalità E tutto il lavoro anche di chi ci circonda Dalla dirigente a tutto il personale Per dare loro la motivazione giusta Allora faccio un'altra domanda Uno per iscriversi, un ragazzo Deve ascoltare la famiglia, gli amici O il consiglio degli insegnanti Deve fare quello che si sente A 14 anni Sì, anche a 14 anni C'è, allora Il consiglio dei colleghi delle medie è fondamentale Perché li hanno visti per tre anni Però un ragazzo può anche cambiare a quell'età È un'età delicata Me lo sta dicendo lei E perciò a volte anche avere delle aspirazioni Anche tentare qualcosa di diverso rispetto a quello forse che ti ha suggerito Non è sbagliato Un fallimento poi ci sta Ah sì? Se è quello degli altri poi è... È no Che ne rifarebbe la stessa scuola che ha fatto? Io la rifarei Lei la rifarebbe? Ha fatto il liceo? Classico Eh vediamo Rifareste lo stesso percorso scolastico, sì? Liceo classico, sì Ah, hai fatto il liceo classico? Sì Hai fatto il greco? Ho fatto greco, ho fatto latino I sindaci qua? Rabito è una vita che non studia Per cui non gli ho chiedo neanche Io farei il liceo classico se potessi Avendo fatto poi giurisprudenza Venendo da una formazione tecnica E quindi mi rendo conto che Chi fa l'avvocato e ha le basi classiche Ha dei vantaggi in più Perché ha un modo di approccio anche rispetto A chi ha una formazione tecnica differente ovviamente Mi diceva prima Riade che avendo fatto giurisprudenza potresti potenzialmente fare anche l'imam È così? Perché no? Dipende di quale giurisprudenza Perché per fare l'imam bisogna? Avere una laurea umanistica No, no, no Non necessariamente no Uno può fare delle prediche sapendo qualche versetto Però è meglio uno istruito di uno che non ha studiato Ecco Però non è una condizione Non è una condizione determinata No La prossima volta che mi iscrivo le superiori farò il classico Anch'io la prossima però perché è quella che ho fatto Che ho fatto lo scientifico E voglio dire È una scuola comune da difendere E l'ho fatto benissimo Si ricordano ancora Sì Domani sera facciamo la notte del liceo classico Posso? A livello di 60 scuole nazionali Partecipa anche il liceo corredino Tutti in pigiama a scuola No Cosa fantastica Letture Musica Enrico Giacomì è un grande atleta Grande nuotatore Con alcuni problemi Non credo che non sia Quando sentiva parlare di turismo accessibile a tutti Effettivamente esiste la necessità di trovare strutture Che siano accoglienti per tutti Io fortunatamente ho un tipo di disabilità Che mi permette di adattarmi anche a certe strutture Che possono essere meno accessibili Però girando Italia, girando l'Europa, girando le capitali eccetera Soprattutto quando si utilizza una sedia a rotelle Quindi si devono percorrere lunghi tratti O anche semplicemente prima La capacità di riuscire a sapere Se stiamo andando verso una struttura accessibile o meno È quasi fondamentale Io ricordo quando proprio stavo organizzando anche la traversata Di cui parliamo A breve Sono rimasto impressionato dalla potenza anche dell'informatica In quanto dovevo semplicemente fare un percorso Da Stansted fino ad una periferia a nord di Londra E sono riuscito a sapere tramite Google Maps Tutti i cambi, gli accessi ad ogni singola stazione Sia della metropolitana che dei bus Sapere se questa era accessibile Ma addirittura se la pedana di accesso all'autobus Era a livello o meno Che è il ragionamento del filobus del futuro Cosa da queste cose sono di un'utilità incredibile Tanto più che anche lo stesso Le persone disabili adesso hanno un accesso a questi strumenti Forniti da internet E se poi vengono sommate ad una struttura preparata Adeguatamente parata E soprattutto comunicata Da parte della città O da parte degli stessi anche albercatori Sarebbe veramente una cosa stupenda Giacomin in settembre Per dimostrare che quello che si vuole si può Ha partecipato ad una staffetta Nel traversare la manica a nuoto Giacomin ha problemi di deambulazione È corretto Io ero l'unico atleta disabile Su questa squadra composta da sei persone Cinque di queste erano inglesi Io l'unico italiano e l'unico disabile Tra parentesi Ho avuto modo di Posso dare che anch'io confermo Di quello che ha detto Rabito Non createmi un mostro Quello che dice Rabito si è orocolato Neanche Bernacca era così Voglio dire Però Rabito aveva ragione Ha ragione perché io avrei dovuto nuotare la manica La settimana di Ferragosto E nella settimana di Ferragosto Il clima non permetteva di affrontare la traversata Al punto che è stata rimandata al 29 di settembre E il 29 di settembre ho nuotato la manica Con l'acqua a 17 gradi Che trovare l'acqua sulla manica a 17 gradi È forse una delle temperature più calde Mi aspettavo di nuotare con l'acqua più fredda ad agosto Cioè più fredda nel congelatore Anche perché la manica Come ho detto anche in un'altra occasione La manica va affrontata Per essere omologata in costume da bagno E di conseguenza A vera 17 gradi Senza mutino Senza muta E io aspettavo di nuotarla ancora più La preparazione l'ho fatta a 12, 13, 14 gradi Hanno avuto pure l'ammarezza nella staffetta Che forse l'ultima La penultima frazione Lei ne ha fatte tre Io ne ho fatte tre Da un'ora ciascuna La penultima frazione Proprio per una situazione di mare Decisamente avverso È stata interrotta Proprio perché una delle componenti Non è riuscita a dominare Questa forza delle onde Che effettivamente la stavano soprafacendo Aveva il bollino della regione In questa impresa o no? Assessore che mi ha perso Giacomini Sono troppo veloci Sulla prossima L'aspettavamo lì al Varco Perché a settembre Giacomini ha un'altra È quella di In solitaria Perché ha detto Beh a staffetta È andata bene Ci siamo consolati Però La prossima volta La fai in solitaria Stretto di Gibilterra Esatto Stretto di Gibilterra Una traversata Da tariffa Dalla costa spagnola Fino alla costa africana 15 chilometri In linea d'aria Quindi saranno Beh in linea d'acqua Saranno uguali Sono più o meno Dipende dalle correnti E No perché Ecco Ha ragione Dipende dalle correnti Perché anche la manica Cos'è? 21? La manica è 22 miglia Ecco ma perché Ve ne hanno fatte fare 42 Voglio dire Per 42 ma interamente A favore Noi abbiamo un ex arbitro Qui che è l'assessore della pozza Che Voglio dire Questi giudici Leggermente Stronzi Voglio dire Cioè Leggermente Perché da 21 a 41 A 17 con le onde Loro imbarca Loro imbarca Sì però la capacità Del barcaiolo E anche Questa grossa capacità Ha permesso di nuotare Tutte queste 42 42 miglia Sì più o meno Cioè il doppio Praticamente il doppio Ma sempre a favore Di correnti Ah capito E questo Quindi loro I barcaioli Su cui noi ci siamo Veramente affidati Il barcaiolo Sicuri? Sì Non c'è alternativa Erano francesi? No No Inglesi Hanno Hanno reputato Che fosse la traiettoria E migliore Torniamo a settembre Lei nuoterà Stretto di Gibilterra 15 km Anche con una sorta Di raccolta fondi E di promozione Di una società Vicentina Di nuoto Per disabili E che abbracci Poi i disciplini Le discipline Paralimpiche All'interno All'interno Del nuoto Vicenza Costituiremo Perché ormai È cosa Praticamente fatta Costituiremo Una squadra Paralimpica Quindi dedicata A disabili fisici Ipovedenti E non vedenti Che Recruterà Tutti gli atleti Tutti coloro Che saranno interessati Appunto a partecipare A questa Con un'importanza Dal mio punto di vista Incredibile Perché Una brevissima storia Io Ricordo Quando sono uscito Poco dal reparto Dal reparto Di riabilitazione Di Vicenza Un reparto Tra l'altro Di eccellenza Gestito Attualmente Dal professor Bertagnoni Dal suo staff Ricordo Delle persone Che in qualche modo Dopo questo incidente Comprensibilmente Anche Si sono un po' Adagiate Facevano fatica Ad affrontare Questa nuova Questa nuova situazione E Sono stati portati Allo sport Persone che Magari Si ammalavano di frequente Avevano febbre Eccetera Riportati allo sport Riportati all'interno Di anche se vogliamo Di una vita sociale Hanno Cominciato a stare decisamente meglio Ci sono ammalati Molto meno E di conseguenza Hanno creato Un grossissimo giovamento A se stessi Ma anche Allo società Quindi questo è l'obiettivo Di creare questa Associazione sportiva Che accolga Tutte quelle persone Che hanno disabilità E che vogliono fare sport Assolutamente In particolare Quelli legati Per cui Quando va a attraversare La stretta di Gibilterra Comunque sia Che Finozzi sia ancora Assore Gli diamo un marchio L'abbiamo già fatto Con tre stella L'abbiamo fatto Con altri atleti Disabili Perché Il loro messaggio È molto forte Assolutamente Proprio come dicevi te Quando si vuole Si può A proposito di messaggi Samuele Riello Al secolo Bobo Vero E a presentare Un'altra Di queste iniziative Molto più Popolare Perché Sono solo 12 chilometri L'appuntamento È Domenica Nella patria Del broccolo fiolaro Che è Creazzo Che io conosco Relativamente bene E che Si chiama Zero 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 Race color Perché Perché Quando siamo partiti Abbiamo detto Se non va Non ci sarà Lo zero zero uno Ma sta riscuotendo Veramente Un successo enorme Forse Però Zero zero Race color Parte E mi collego Al discorso di prima Dalla forza di volontà Io Ho divorziato Con una malattia Genetica rara Che è la Policistosi renale Che mi ha fatto fare Un percorso di vita E nel 2011 Ho avuto un trappianto Di rene E rene me l'ha donata Mia mamma Credo che Sia Poco Da 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 Quindi Tutto Quello Che nasce Che è nato Attraverso Il mondo I colori Io dico Sempre Prima di Tutto Grazie Mamma Di Spinge Veramente Gli uomini Oltre Gli ostacoli Oltre Anche Alla Stessa Forza Fisica Se uno Un obiettivo Ci riesce Zero Zero Race Color È una Marcia Che è stata Omologata Fiasp Di 6 12 Km Itinerante Nelle Piantagioni Del Brocco Fiolario Di Creazzo E Anche Una Corsa Di 12 Km Vi Giuro Che Correre 12 Km Per Un Trapiantato Con La Viscica Buccata Ogni Passo Sull'asfalto Lo Sentiamo Tutto Ci Saremo Con Una Squadra Colorata Oltre 400 Atleti Che Hanno Già Aderito All' Iniziativa Che Hanno Il Pettorale Il Nostro Slogan È Corri Con Noi Il Trapianto È Un Dono Per Correre Verso La Vita Questo Perché Avremo Un Freplay Agonistico Che Aspetteremo Chi Arriva Arriverà Per Ultimo E Indosserà La Maglietta Di Mondo I Colori Perché Per Noi Il Traguardo Non È Tanto Il Tempo Che Passa Ma È Proprio L'inizio Di Questa Seconda Vita Va Dito Che Il Ricavato Dalle Nefrologia e Dialisi Del San Borto Con cui Voi Come Associazione Collaborate Certo che Sì Da Più di Tre Anni Ormai Collaboriamo Con Il Dipartimento Nefrologia e Dialisi Dello San Borto Di Vicenza Guidato Magistralmente Dal Professor Ronco Che È Un'eccellenza Non Solo A livello Provinciale Regionale Ma Anche A livello Nazionale Anche Fuori Dalla Stessa Italia Perché Il Trappianti All'anno E poi Seguono Anche Quelli Da Cadavra Io Lascerei Il Percorso Il Percorso Sì 12 Km Come Tu Hai Detto Tra Le Coltivazioni Del Broccolo Fiolaro 12 Km Sono La portata Di Tutti Facili Sono 12 Km Che Diciamo Racchiudono Un po' La filosofia Del Territorio Perciò Si Slonaderanno Sulla Collina Di Creazzo Passando Per le Coltivazioni Del Broccolo E' Percorso Che Anche Per Filosofia Sposa Un attimino Un po' La Causa Dove In alcuni Punti Si dovrà Un attimino Un po' Soffrire Soprattutto Per noi Podisti Di Pianura Perciò Si è Cercato Di Riunire In Questi 12 Km Varie Tipologie Di Percorso Un po' Di Foristrada Un po' Di Salita E Un po' Di Pianura Perciò Metteranno Diciamo Così A dura Prova Per coloro Che Hanno Diciamo Così Di ritmi Di strada Molto Più Veloci Mentre Per Coloro Che vorranno Un attimino Soffriranno Un po' Più In Pianura Avranno Modo Di Recuperare Insomma Su Questi Tratti Di Salita Per Uno Come E Si godrà Sicuramente Il paesaggio Che è tra uno Di più Spettacolari Perché da Nord a Sud Possiamo Ammirare Tutto La Nostra Bellissima Adesso Vi Faccio Un regalo Che Tempo Farà Creazzo Domenica Domenica Non ti Sbagli Perché Se ti Sbagli Dopo due giorni Di pioggia Dopo due giorni Di pioggia Quindi domani E dopo domani Domenica Dovrebbe essere Un reggiatto Discreta Nuvolosa Però Non dovrebbe Piovere Il broccolo Ha bisogno Di Freddo E a stima Prossima Facciamo arrivare Anche il freddo Sì 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 La prossima La sagra Finisce Se è sempre In ritardo Di sette giorni Non si può Ci fermiamo Per qualche istante Ci rivediamo Per L'ultima Trance Del nostro Appuntamento Al bar Tra pochissimo Bentornati 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 In piazza Sindaco Rigoni Stern Stava mangiando Stava mangiando L'abbiamo preso I sindaci Mangiano Al tavolo Le volevo chiedere Lo yacht A nove mesi Cioè È attaccato Allo signore Deve chiedere L'assessore Finozzi Il futuro Dello yacht Di asiago Lo devo chiedere O glielo chiede lei No Allora Faccio una premessa Diciamo che Io mi sono posto Alla chiusura Dello yacht Perché È l'ex Azienda autonoma Di cura di soggiorno È un ufficio Che ha 80 anni Di storia E non è pensabile Che il nostro comune Veda chiuso Questo ufficio Perché è un ufficio Che fornisce Informazioni E dà l'accoglienza Al turista Un punto di riferimento Per chi arriva Ad asiago Per tutto il territorio Ricordo che noi abbiamo Più della metà Delle presenze Un ufficio Possa continuare La sua funzione Con questo personale Perché è un personale Specializzato Che conosce le lingue E che ha Una specializzazione Proprio per questo tipo Di servizio Che viene fornito Al turista Assessore Che mi fa? Mi taglia Gli yacht Così Del 50% C'è un motivo Caro Luca Nel 2010 Quando io sono stato Nominato assessore Avevo a disposizione Per il turismo Un budget Attorno ai 40 milioni Di euro In quel periodo Venivano trasferiti Alle province Circa 12 milioni Di euro Per far funzionare Questi uffici Yacht E oggi Come previsione Il bilancio 2015 9 milioni Da 40 a 9 Sì perché Taglia 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 I tagli che abbiamo dovuto In qualche modo Assorbire In questi anni Sono andati a incidere In quelli che sono I cosiddetti Capitoli di bilancio Comprimibili Non abbiamo toccato Il sociale Non abbiamo toccato La sanità Non abbiamo toccato La scuola Non abbiamo toccato I trasporti O in minima parte Quindi tutto il peso D'Italia è andato Sulla cultura Sullo sport Sul turismo Sull'industria Il turismo che dovrebbe essere Una delle voci principali Nel paio dell'economia Nel paio del futuro O qualche università Che sia così Illuminata come scelta Però non facendo L'amministratore A meno per ora Purtroppo Alla fine è così Poi nel frattempo È successa un'altra cosa Che ha rivoluzionato Il sistema Con cui si può finanziare I ufficiali Che i nostri bei comuni Possono applicare La tasse di soggiorno Tasse di soggiorno Che non significa Mettere in mano Nelle tasche Di cittadini Ma quei turisti Che ormai pagano La tasse di soggiorno In tutto il mondo Tu vai in Austria In Germania In qualsiasi parte del mondo La tasse di soggiorno Più o meno alta Si paga effettivamente Ogni comune Ha piena autonomia Se applicarla Quando applicarla E come applicarla E quel che ricava Come dovrebbe utilizzarlo Ecco La destinazione D'uso Non è così Chiarissima Perché la legge Dice che dovrebbe Essere riutilizzata A finalità turistiche Però il comune Potrebbe dire Ma se io Sistemo il marciapiede Sistemo la fognatura È comunque Un servizio Al turista Io dico Una piccola parte Usala per dare informazione Al turista Che viene a casa tua Non puoi aspettare Che sia la regione Che non ha più Risorse A far sì Che il turista Che arriva a casa tua Abbia questa informazione Perché la stragrande Maggioranza Di informazione Di cui ha bisogno Un turista L'ha già Se l'ha già trovata In quelle che oggi Sono le informazioni Attraverso internet Quindi informazione Che dà l'ufficio IAT E quella spiccia Sotto casa Per sapere Fra nove mesi Si devono arrangiare Ma lo devo fare adesso Nel senso che Non ci sono più risorse Le province Stanno chiudendo i battenti I comuni Che hanno Una presenza turistica Dignitosa Significa che possono Permetterci Attraverso la tasse su giorno Di mantenere L'ufficio turistico Da ricordare anche Che con la riforma Prevista La legge 11 Oggi l'ufficio turistico Può fare Attività commerciali Di cose che prima Poteva fare Può Prenotare camere Può vendere Biglietti Di spettacoli culturali Può vendere prodotti Tipici locali Può avere una propria attività Che gli garantirà In buona parte La autosufficienza Da un punto di vista finanziario Se poi il comune Ci mette qualcosa Da tasse su giorno Sono disfatto Ma queste sono considerazioni Che abbiamo fatto Più volte Io e l'assessore Finozzi Con la quale tra l'altro Collaboriamo anche molto bene Come amministrazione comunale E il suo assessorato La considerazione che faccio Però è che In questo momento C'è un appoggio Un sostegno Da parte del presidente Variati Che è lui Che paga questi dipendenti Provinciali Che svolgono queste funzioni Di informazione E coaglienza turistica Il quale mi dice Io sono disponibile A mantenere l'ufficio E a garantire Che questo possa continuare A fornire questi servizi Imprescindibili Anche per l'immagine turistica Di un comprensorio Che ha un rilevante Numero di presenze E di arrivi Purché la provincia E la regione Veneto Mi garantisca Di poter esercitare Ancora questa funzione E questo L'inghippo Cioè noi ci troviamo Delle risorse provinciali Che potrebbero Rimanere lì Questo è un affare Molto diverso Rispetto a quello Della funzionalità Dell'ufficio Iato Le province ormai Hanno un destino Segnato Dovranno ridurre Del 50% Le spese Sul personale Significa Mettere A disposizione Del resto Delle Sì però Le funzioni Per cui hanno una logica Non è ancora stato definito Cosa rimarrà In capo Le province Non si sa Se rimarrà L'urbanistica Non si sa Se rimarrà La viabilità Ci sono alcune competenze Che sembrano Ormai Definite Che arriveranno In provincia Altre che Devono essere ancora decise E il personale Non posso decidere Lì Assessore del turismo Se la provincia Lo può utilizzare o meno È un discorso Che andrà a toccare Tutto il personale La provincia A Posina C'è uno Gli atti di riferimento O no? A Posina Abbiamo colto L'opportunità Fornita Dalla nuova legge regionale Sugli uffici turistici Abbiamo formato Uno iatt Che è finanziato Dai comuni Che adesso È in via Di modifica Perché Gli ultimi binanci Comuni Hanno modificato L'assetto E contiamo Comunque Di tenerlo aperto Con le indicazioni Della legge regionale Facendole fare Non solo L'ufficio Di accoglienza E di assistenza turistica Ma anche Utilizzando Per promuovere E non solo Nominalmente Ma anche commercialmente I prodotti tipici Del territorio Per cui trovarle Comunque La possibilità Di finanziarli A febbraio Avete i campionati Degli alpini Neve Comunque Esatto Faremo neve Anche artificialmente Pur di farla Diciamo che È un'iniziativa Degli alpini Ma che faremo Anche in abbinata Con Asiao Fiocchi di Luce Che è il concorso Piro musicale Che da qualche anno Facciamo Con l'obiettivo Di destagionalizzare Cioè di prolungare La stagione turistica E far sì Che i nostri alberghi Possano lavorare E garantire Anche attrattività A tutto il territorio La regione ha dato Un milione di euro Al golf Di Asiago No no La regione Veneto Ha dato un milione di euro Al comune di Asiago Ha realizzato il comune Non me lo diceva mica Sì ma ne parlavamo Prima dovremmo fare Una conferenza stampa Per illustrare Questo progetto Che è stato finanziato Dalla regione Veneto Per un milione Centoventicinque mila euro Se non sbaglio Che ha Una sua strategicità Nello sviluppo Sia del golf E quindi per la parte Estiva Tutta una serie di dotazioni Che riguardano Il golf academy Cioè la possibilità Di fare golf Anche durante l'inverno E quindi Un simulatore Tutta una serie di servizi Che riguardano Il campo pratica Ma riguarda anche Lo sviluppo Del fondo Cioè Il completamento Dell'offerta turistica Per l'uscita a fondo Con la realizzazione Dello stadio Del fondo Che darà una risposta Anche alle numerevoli Società sportive Torno subito C'è qualche bicchiere Semivuoto Nell'eventualità Sì che non mi Si disidratino Prima della fine Non manca molto Ma Eventualmente Voi pensate Che Arabito Sia così di suo No Ci sono dei motivi Ovviamente Molto più seri Perché oltre che fare Le prisioni meteorologiche Che Arabito Ha altre passioni Come quella di Andare a caccia Di Tornado Di Tornado Di tornado Che non sono gli aerei Ma sono proprio quelli Che ti scuotono Io ho fatto la raccolta Di palline Perché di tornado Ma non si può Perché Perché il tornado È il massimo Della forza della natura È la massima espressione Delle forze naturali Sul nostro Della nostra atmosfera Il tornado È l'essenza Più distruttiva Del clima Ma anche più affascinante E quando ne becchi uno Cosa fai? Ortografi? Ma soprattutto Fotografie, video E si spera che comunque Non colpisca Ma sì appunto Anche perché Non abitate O attività umane Ovviamente È una Passione molto diffusa Negli Stati Uniti Meno qui in Italia Un po' meno in Italia Sì un po' meno in Italia In Italia siamo meno Però Ecco Ci fossero tra i presenti E chi ascolta a casa Persone che avessero Questa voglia di pianificare La prossima vacanza In cerca di tornado Visto l'assore Dalla puzza Molto interessato Ad esempio Molto interessato Dove dovremmo andare? Beh allora Negli Stati Uniti Tutte le pianure centrali Quindi tutto il Midwest Dei Stati Uniti Un po' più vicino Oklahoma, Kansas Nebraska Più vicino Anche qui Anche qui Nella nostra pianura Qualche tromba d'aria C'è E tromba d'aria È un sinonimo di tornado Quindi è la stessa cosa Perché è la stessa dinamica Che sta alla base Di questo fenomeno Anche di fulmini Vai in cerca Sì qualche volta Qualche foto ai fulmini Ma non è una cosa Che mi appassiona più tanto Si possono immagazzinare I fulmini? No purtroppo no Non ci hai provato E attenzione Perché il fulmine È molto pericoloso E beh Dove fare attenzione Perché a volte Si sottovaluta La pericolosità dei fulmini Guarda Nella seconda puntata Di questa emissione Ho avuto Una persona Molto esperta Che mi ha detto Guarda Che gli orsi Sono molto pericolosi Infatti Guarda Sto abbondantemente Lontano E attentamente Lontano I fratelli Bau Cosa ci presentano Mi sono accomodato Per ascoltarvi Cosa ci presentano adesso? A lei A chi? A lei Ah va bene Il video che vedete Il suo professore Impressione Aspetta che arrivo Con un microfono Se me ne prestate uno Poi forse Ve lo ritorno Mi dicevi Che il video Sì Il video a lei Che abbiamo girato Proprio ai mercatini Invernali di Asiago E anche giù per il corso Del comune di Asiago E quindi E al cinema Lux di Asiago E' proprio Nella nostra terra Che amiamo tanto Asiago Sì vai Gli avete dato Una sviolinata Al sindaco Vi faccio esibire Un'altra volta in piazza Vabbè Ok Ok In un giorno In un giorno Perdessi te L'istante non sente più, bolle che si chiama amore La fiamma ne parlerà, il vedo si perderà Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore L'istante non sente più, bolle che si chiama amore La fiamma ne parlerà, il vedo si perderà Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore L'istante non sente più, bolle che si chiama amore La fiamma ne parlerà, il vedo si perderà Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore E questa voglia di andare via da tutto questo colore E questa voglia di andare via da tutto questo colore L'istante non sente più, bolle che si chiama amore La fiamma ne parlerà, il vedo si perderà Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore Nel sangue ne parlerà, il vedo si perderà Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore Nel vento la cercherò, strada che vi brucia il cuore Nel vento la cercherò, ma sono al corrente E ha fatto anche un bel gesto, che è stato quello Delle dimissioni dal Parlamento europeo Che è un segno di grande coerenza e anche limpidezza Lei ha letto le ansa, assessore Finozzi Su la prima idea di programma della Moretti È interessato o no? Beh, è interessato sicuramente, ma oggi non ha avuto Motturamente il tempo Non ha riservato tempo a guardare cosa fanno gli avversari Chiedovenia Eh vabbè, hai ragione Secondo lei partono il 50-50, Zaia e Moretti o...? Beh no, ovviamente chi vince il campionato Nel campionato successivo parte avvantaggiato E dipende come si deve gestire questo vantaggio E credo che il presidente Zaia abbia una marcia fenomenale Per quanto riguarda la capacità di parlare alla gente E uno molto diretto E per curiosità, lei si candida? Sì Oddio Se fosse passato quello dei due turni e due... Però si candida? Se ci sono le condizioni, sì Sai che qualcuno dice che anche lei ha questa mezza pazza idea Come direbbe... Chi cantava pazza idea? Patti bravo di presentarsi alle regionali Vediamo, c'è... Ah, non mi dice di no Può essere che dopo 16 anni di onorato servizio in comune Magari un po' di servizio anche in qualche altro ambito possa... Perché altri invece mi hanno detto No, no, guarda, dalla pozza non si presenta ai regionali Perché vuol fare il sindaco da Moriati? Quante cose Quante cose? Io gli ho risposto, ma che vuoi fare tutto dalla pozza? No, no, un passetto alla volta Però per le regionali... Beh, insomma, credo che sia normale nell'evoluzione di chi fa l'attività istituzionale, politica Pensare anche di allargare un po' l'orizzonte Ma ci sta pensando perché è convinto che vinca la Moretti? Io penso che Alessandra abbia tutte le carte in regola per fare il governatore del Veneto E quindi credo che anche se è un'avventura da vascello pirata magari In un mare tempestoso come quello di una potenza come quella di Zaia Le carte ci siano e la squadra che le sta attorno possa essere valida Sa che se lei si candida ha l'impressione che non ci metterà gli autovelox in tangenziale? Ma io rimango a fare il mio lavoro fino all'ultimo giorno con la coerenza da amministratore comunale Non sono... stavo per usare un termine Stavo per usare un termine che non andava bene in televisione Ma non... chi fa l'amministratore sa che deve fare l'amministratore Poi si dedica anche ad altre cose, ma deve rimanere coerente Riad ne parlate ogni tanto di... ad esempio a maggio ci saranno le elezioni regionali Voi al centro islamico parlate anche di voto? Perché lei è cittadino italiano? Sì, sì, ho il diritto al voto Ma in sede dell'associazione, siamo un'associazione a politica Non parliamo di politica Ci sono italiani che frequentano il centro islamico? Ci sono alcuni italiani, sì Non sono molti? No, sono 5-6 italiani Vicentini e anche del sud Che hanno abbracciato questa religione Non giovanissimi? No Quali sono le altre attività che fate? Soprattutto il sabato e la domenica No, perché se mi devo organizzare devo sapere Sì, sì, sì No, il sabato e la domenica è dedicato alle attività interne Che sono propense a mantenere l'identità del musulmano Come la lingua alaba, l'insegnamento della lingua alaba per i bambini E poi i corsi di giurisprudenza religiosa Le altre attività che hanno come obiettivo L'inserimento dei nostri fedeli per aiutarli a integrarsi meglio Sono i corsi di quello che riguarda la cittadinanza, il diritto, la storia italiana Abbiamo collaborazione con i sigli dei sindacati Per informarci sulle novità sul mondo del lavoro Sai che ogni tanto noi ci diciamo che veramente Voi conoscete i diritti meglio di quelli che conosciamo noi Che, essendo nati qua, dovremmo No, ma anche per esigenza Perché ci sono le leggi, soprattutto quelli nell'ambito del sociale Che se qualcuno perde il lavoro Cerca di più queste leggi per essere aiutato E quando è arrivato in Italia? È arrivato subito a Vicenza? No, ho fatto un anno a Perugia all'università della lingua italiana Poi sette anni a Padova, all'università agraria E per esigenze di lavoro sono venuto a Vicenza Dica la verità, sta bene A Vicenza? Sì Dovrei dire di nuovo No, ma ci mancherebbe altro Volevo chiedere all'insegnante Senati Lei quel tema che avete nell'istituto tecnico di Tiene Che la sua collega ha dato Riferendosi di convincere il liguista Che l'immigrazione è un'opportunità L'avrebbe dato? Il tema l'avrei dato La traccia l'avrei formulata in maniera diversa Nel senso che un tema di carattere... E se io le avessi scritto, ad esempio, guardi, non ho amici leghisti, punto Finito il tema Che voto mi avrebbe dato? No, non si può fare una cosa del genere Nel senso che il testo argomentativo è una traccia rigorosa e molto importante Bisogna svilupparla secondo un certo filologico Per cui ci sono delle tecniche che anche la scuola italiana insegna Proprio per affrontare un tipo di... Ci sono delle tecniche anche per formulare i titoli dei temi Anche, vero? Lei mi provoca, però... Anche dei corsi di recupero ci sono per imparare Bisogna formularla bene Lei come l'avrebbe svolto, assessore Finozzi, noto e liguista Beh, vedo che le cravate verdi vanno, per cui... Ma la mia è l'assessore dell'ambiente È l'assessore verde Anche loro sono verdisti No, ma il verde è diventato di moda Come l'avrebbe svolto quel compito lì? Ma, guarda... Guarda che ho 30 secondi Il presupposto è che... Il concetto che è stato espresso con quel tema È carico di pregiudizio Perché il liguista deve essere per forza un soggetto avverso all'immigrazione All'immigrazione è irregolare, sì Ma credo che ognuno sia contro l'irregolarità Ma contro l'immigrazione irregolare noi non abbiamo mai espresso delle preoccupazioni Anzi... Ricordo, caro Luca, che il comune che aveva il maggior livello di capacità di integrazione Era Treviso nel periodo in cui era governato a Gentilini E aveva raggiunto, detto dalla Caritas, il maggior livello di integrazione Io credo che Riad tra Treviso e Vicenza avrebbe scelto... Sicuramente Vicenza Avrebbe scelto sicuramente Vicenza Ma prima parlava che insegna i diritti e i doveri quando non li insegna Anche i doveri No, non ho capito solo i diritti Però i doveri e i diritti Ascolta, se vieni con me a conoscere il centro islamico o no? Ma mi piacerebbe perché io... Porto l'assessore... Io per mia fortuna non sono viziato da un credo religioso Ho mangiato tutto il tempo, grazie a Metro Bar, a Giulia e Ilda Che sono state bravissime, vi hanno servito birra go go Vi raccomando, domenica mattina Creazzo per 0-0 Race 12 km rapidissimi Ci rivediamo e ci risentiamo prima della partenza per l'attraversata Assolutamente, prima della partenza e anche a rientro, mi auguro Ah beh, ci manca... Ma ecco, prima di partire Prenda contatto con Rabito Che le dice... Adesso ci scambiamo subito i nostri cellulari Sempre che nel frattempo il tornado Se lo sia preso in consegna per un po' Grazie ai sindaci della disponibilità Grazie a lei Grazie dell'invito a Riad A voi dell'attenzione, ci rivediamo Però giovedì prossimo Voi ci siete anche giovedì prossimo Se vi trovate bene Noi ci troviamo assolutamente bene con i fratelli Beau Anche noi Bene, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Per la tua...